Direttore, cosa sono le COT e come l'ASL prenderà maggiormente in carico il paziente? Le COT sono la prima step di attuazione del PNRR. Come l'ASL prenderà in carico il paziente l'abbiamo già anticipato con le AGICOT. Noi siamo stati i fautori di questo progetto ministeriale per la presa in carico del paziente. Quindi le COT non sono altro che una continuità di quello che noi già stiamo facendo con AGICOT, però la COT è la struttura prevista proprio dal PNRR che è appunto uno strumento per venire in conto alle esigenze di cura del paziente e di assistenza ai familiari nel percorso di cura che il paziente stesso dovrà fare. Quindi sia nella parte dell'ospedale, dall'ospedale al territorio, dal territorio all'ospedale e nell'ambito del territorio. Cioè in pratica prenderlo in carico, ad esempio viene dimesso l'ospedale, ci sta la COT che si occuperà di come verrà allocato oppure dovrà messo i nati, deve andare ad un RSA, deve avere qualche altro tipo di assistenza e la COT che in rete coordinerà tutto questo processo. In una rete in cui sono coinvolti i medici generali, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, c'è tutta la parte medica anche ospedaliera per gestire il paziente nelle diverse fasi di cura. Noi ne attiveremo tre nell'ambito della provincia di Teramo, così come è stabilito la regione Abruzzo, una Teramo che è AB, Nereto e Roseto e il costo per metterle per la realizzazione delle COT è stato di circa 450 mila euro. Il prossimo passo sarà poi l'istituzione delle case di comunità per una medicina territoriale sempre più presente. Una medicina territoriale di prossimità, è ovvio che il secondo step sono quelle delle case di comunità e degli ospedali di comunità. Noi ci stiamo già portando avanti con i lavori, soprattutto per la casa di comunità di Villarosa e quella di Montorio. Quella di Villarosa dovrebbe essere aperta già a fine estate, speriamo di poterla inaugurare e iniziare a vederla lavorare in un territorio di confine perché riteniamo che sia importante l'allocazione di una struttura del genere in una posizione strategica per il territorio terramano.